Ciao a tutti, troveremo gli alieni tra pochi mesi secondo uno scienziato molto importante. Allora, in questo video voglio parlarti degli alieni e del fatto che secondo uno scienziato molto importante tra pochi mesi incontreremo gli alieni. Prima di affrontare il tema però iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco e ti ricordo inoltre che sul canale ti puoi abbonare, abbonandoti potrai scegliere tra diversi livelli di abbonamento abbonamento live per partecipare alle live, abbonamento base con lezioni mirate, abbonamento top con lezioni mirate e videoregistrazioni in seminario dal vivo, abbonamento master consulting con in più una consulenza telefonica. Adesso veniamo al tema. Allora, quando incontreremo gli allievi? Beh, a partire da ottobre 2021 e questo però è quanto affermato da uno scienziato veramente molto importante, e che si è espresso diciamo non tanto paventando un incontro all'IT oppure un incontro ravvicinato del terzo tipo o del quarto tipo come magari molte persone dicono anche di aver fatto. Diciamo che al di là di tutto le persone che dicono di aver incontrato gli alieni, beh, per carità, tutto è possibile. Gli antichi testi parlano inoppugnabilmente del fatto che ci sono, che probabilmente diciamo questo nostro pianeta è stato visitato innumerevoli volte da civili italiene. Però diciamo che non ci sono, per così dire, la cosiddetta pistola fumante perlomeno non è manifesta. Però diciamo che dei segnali ci sono. Ma in realtà questo scienziato, Mikio Kaku, non parlava di questo. Cioè lui parlava di incontri con gli alieni, ma non un incontro, ripeto, ravvicinato, ma attraverso un telescopio, un telescopio molto importante, il James Webb Space Telescope, che verrà posto in orbita, verrà posto in orbita a partire da ottobre 2021. E queste ipotesi, diciamo, sono state fatte da un celebre fisico, astrofisico, che è appunto Mikio Kaku, a The Guardian. E hanno però appunto, principalmente a vedere, con questo avanzamento tecnologico, un telescopio spaziale di ultima generazione, il James Webb. E questo telescopio è un telescopio estremamente potente e verrà messo in orbita a ottobre di quest'anno. E per diversi problemi avrebbe dovuto già essere in orbita da tempo, ma non è stato possibile. Problemi ingegneristici, sforamenti del budget, insomma, ne hanno impedito il lancio. Però questo telescopio, che appunto sarà in orbita da ottobre, ci permetterà di entrare in contatto, diciamo così, attraverso appunto il telescopio, con moltissimi esopianeti, con un livello di analisi molto approfondito, che potrebbe farci, diciamo, scoprire o avvistare delle civiltà aliene. Ecco, questo, lo stesso telescopio, diciamo, ci darà proprio la possibilità di entrare veramente in contatto quasi diretto. Poi, se stabilire un contatto o meno, qua lo stesso scienziato ha molti dubbi, perché non è detto che in effetti gli alieni siano poi come anche noi esseri umani. Pensiamo agli esseri umani quando sulla Terra hanno, tra virgolette, invaso, pensate all'invasione spagnole nelle Americhe. Sappiamo tutti cosa è successo a Montezuma, quando è incontrato Cortes in Messico, centinaia di anni fa, gli invasori. O quando si stabilisce un contatto con un'altra civiltà, non è detto che possano essere contatti amichevoli. Anche la nostra razza, dobbiamo dire, che non è veramente amichevole. L'essere umano è una delle razze più sanguinarie che esiste veramente. Cioè, se noi pensiamo a noi stessi, come trattiamo alieni, gli alieni che sono sul nostro pianeta, alieni agli esseri umani, cioè gli animali? Beh, se ci pensate, oramai viene dato quasi per scontato, no? Ma noi alleviamo animali, ci nutriamo di animali, uccidiamo animali, schiavizziamo animali. Beh, senza tener conto che erano schiavizzati anche esseri umani. Ecco quindi che l'essere umano ha un'aggressività intrinseca e diamo per scontato alcune cose che in realtà non dovrebbero essere per scontate. Quando si parla, certo, facciamo parte della catena alimentare, probabilmente siamo stati progettati male, ma non è più una catena alimentare quella che sta usando l'essere umano. È veramente... sono barbarie e torture. Quindi l'essere umano è, se vogliamo, un barbaro torturatore preso su larga scala. Quindi non so neanche se agli alieni farebbe piacere incontrare noi. Sicuramente se fossero meno evoluti di noi, avessimo la possibilità di andare sui loro pianeti, è certo, quasi certo, che li schiavizzeremo in qualche modo. E quindi non dovremmo poi lamentarci se invece incontrassimo delle razze che tecnologicamente superiore a noi schiavizzassero noi e ci trattassero come polli da batteria, perché anche questo è vero. Cioè noi non abbiamo nessun rispetto per dire per i polli che mettiamo in batteria, trattati in modo, diciamo, indecente, indegno. E poi però andremo a lamentarci se una razza aliena, in qualche modo tecnologicamente più avanzata di noi, ci trattasse come noi trattiamo i polli in batteria. Lo troveremmo una cosa immorale, una cosa... però dobbiamo riflettere, insomma, su come noi ci comportiamo. Comunque, detto questo, che c'è stata un po' una divagazione, diciamo, sul tema, presto avremo il telescopio web in orbita e quindi avremo migliaia di esopianeti da guardare con possibilità di forme di vita e quindi, diciamo, secondo questo scienziato, le probabilità di entrare in contatto, seppur attraverso un telescopio, con civili italiene sono piuttosto alte. Bene, vedremo. Per questo video è tutto. Se ti è piaciuto metti un like, condividilo con i tuoi amici, iscriviti al canale attivando la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco e ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare, abbonandoti potrai scegliere tra diversi livelli di abbonamento, abbonamento base, abbonamento live per partecipare alle live, abbonamento base con lezioni mirate, abbonamento top con lezioni mirate e videoregistrazione e seminari dal vivo, abbonamento Massa Consulting con in più una consulenza tecnica.